Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia. Partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In A1 si consiglia prudenza a causa della nebbia a banchi che sta interessando il tratto tra Rioveggio e Aglio. Sempre in A1 a causa dell'allerta meteo in vigore dalle 9 di domani 25 dicembre alle 12 del 26 dicembre chiuso il tratto tra la variante del balico Baccheraia e Rioveggio verso Bologna e tra Rioveggio e Aglio verso Roma. Sulla statale 12 della Betone del Brennero si ricorda che a causa dei lavori di ripristino in seguito ai danni provocati dalla piena del fiume Serchio è chiuso il tratto tra Bagni di Lucca e Borgo Ammozzano. Chiudiamo con la viabilità di Firenze possibili disagi a causa di un incidente avvenuto in via Oguccione della Fagiola tra via Giarnotti e via Datini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!